buon pomeriggio ragazze allora io sono in cucina sono in procinto di farmi la cucina adesso voi non vedrete credo che non metterò non farò nessun video che faccio la cucina tanto lo sapete già come la pulisco ho fatto questo piccolo video per augurare a tutte voi ma proprio a tutte anche alle youtuber una serena e felice festa della donna io l'ho già festeggiata mi sono fatta la lasagna mio marito mi ha comprato la torta mimosa con dentro c'è un bacio perugina e una piccola mimosa che io preferisco più una piccola mimosa come quella che mi mantiene tantissimo tempo perché poi io la conservo che quella fresca che dopo due tre giorni la si deve buttare comunque ragazze io auguro a tutte voi una bellissima e fantastica giornata qui è un tempo molto nuvoloso e niente fanciulli vi mando un grossissimo bacio a tutte e vi dico dal profondo del mio cuore che vi voglio bene a tutte quante e volevo ringraziare tantissimo ma anche tanto le nuove iscritte che si sono da pochi giorni iscritte al mio canale spero che mi conoscerete attraverso i video non lo so anche attraverso le live un po così curiose e simpatiche che facciamo tanto per passare quell'oretta di tempo e niente ragazze io vi saluto vi auguro di nuovo una festa e mi raccomando vi aspetterò un prossimo video ciao e buona festa della donna ragazzi